Scusi, cos'è? Una cambiale. E cos'è una cambiale? Lo sai, sono ignorante. Una cosa che si cambia, forse. Ma lei padre non sa cos'è una cambiale, quel pezzo di carta, un titolo di credito, pagherò, aggravata da una firma che si suppone falsa. Fratello mio, in qual abisso sei caduto? Non hai ascoltato a me i miei consigli? A che cosa sono servite le mie preghiere? Cale canem, cale canem, in oxigno vinges, est, est, est. Ma.